Finalmente una doccia dal vero! Venite, vi faccio vedere quanta poca acqua riesco a usare. Prima ci si bagna, si sceglie il getto. Aperto quassù, quindi tutti i vapori e stati d'inverno escano. Ed eccomi qua! Finita la doccia, pochi litri. Come sapete, sia nel camper che nella barca dobbiamo fare molta attenzione all'acqua e la stessa attenzione la facciamo quando siamo a casa. Perché siamo abituati a non sprecare l'acqua e di questi tempi è molto importante. Ciao!